Manifestazioni un po' in tutta la regione come del resto in tutta Italia e non solo per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne proclamata nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel Molise in verità le manifestazioni non si limitano alla sola giornata di oggi. A Campobasso per esempio per tutta la settimana sarà esposto un nastro rosso dalle attività commerciali della città aderente all'iniziativa. Tutte le manifestazioni sono legate tra loro dal filo conduttore del contrasto alla violenza di genere, alla violenza contro le donne e contro ogni forma di discriminazione. Del resto gli episodi di violenza che vengono ricordati sono molto diversi tra loro e non tutti ovviamente riconducibili a quello preso a simbolo della giornata odierna, l'assassinio il 25 novembre 1960 delle sorelle Mirabal. Le tre donne furono trucidate per l'impegno con cui avevano tentato di contrastare il regime del dittatore che oppresse la Repubblica Dominicana per oltre 30 anni dal 1930 al 1961. Oltre alle iniziative dell'amministrazione comunale e della provincia di Campobasso, eventi sono organizzati per esempio a Isernia dove l'Inner Wheel Club organizza all'Hotel Europa una serata incentrata su una tavola rotonda. A Termoli, eventi cosiddetti di sensibilizzazione sia nel tardo pomeriggio di oggi sia dopo domani domenica. La città adriatica concluderà martedì 29 novembre nella sala consigliare del Comune dove si terrà il convegno intitolato Violenza di genere, siamo tutti responsabili. Nel quadro delle iniziative rientra anche la giornata organizzata dalla Camera e dal Senato Save from Fear, Save from Violence, al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza, alla quale intervenuta in rappresentanza dell'Università del Molise, la consigliera del Rettore per le Pari Opportunità e Lisa Novi Ciavarria. Nel corso di quell'incontro sono state presentate le risoluzioni attivate dalle università italiane nel campo della formazione e della prevenzione della violenza contro le donne.